Socchini belli, buongiorno, tutto a posto? Non pensate a male? Sono sempre in una macchina sotto il palazzo, sono venuto a metterla in moto. Incaziana Maroni è partita, tutto a posto, un meccanico può aspettare. Comunque, mo' hanno fatto la scimmanata. Mi avete chiesto per la serie didattica a distanza, che mo' abbiamo capito che è una cosa che va tanto di moda, di approfondire il nostro grandissimo poeta Giovanni Pascoli della scuola dei Passaguai. E mi avete chiesto in particolare di spiegare la sua poesia, che si chiama Il Gelsomino Notturno. Allora, Socchini carissimi, a proposito di questa poesia, voi mi dovete consentire, io devo fare una premessa doverosa e altrettanto importante. I per carità non voglio offendere a nessuno, tantomeno voglio offendere la memoria dei defunti e lo spirito delle anime che non ci stanno più. Per me, per carità, Gianni deve stare in taschi dell'angelo. Isto con tutti i carubini ci mancherebbe altro. Lungi da me l'idea di offendere la sua memoria. Però io so come siete fatti voi. Voi avete capito che io devo uscire facilmente la voca, perché non mi so accettare a uscire la voca, no? E ha già ricevuto quello che pensa. Ma di me, se questa poesia a me è mi ha messo in difficoltà a me. Io ma quello che devo dire, lo devo dire. Va bene, insomma, questa poesia è stata scritta nel 1903 da Giovanni Pascoli per il suo amico carissimo Gabriele Brignati. Gabriele, che si trattava da tanto tempo, perché non usciteva e non voleva bene, si sposa, giustamente lo invita al matrimonio. Fin qua, tutto a posto. Ora solamente noi cosa ho già ricevuto con questa poesia? Poche semplici, però importanti. La prima cosa, caro Gianni, tu sei il tuo matrimonio di un medico compagno tuo che ti ha invitato in questo giorno importante per la sua vita che sei sposato. Sei chiudato là, hai mangiato, hai fatto la cerimonia, sei divertito, hai ballato, annanziarete, e alla fine te l'hai cavato con una poesia. Ma non sta bene quello che dico io, perché se non puoi riuscire, hai pazienza, scusami se te lo dico, però è così, perché non si fa così, l'amicizia sa da trattare, e poi tu non hai carici, non hai fatica, sono in difficoltà e roba va. Tu hai fatica, tieni un posto, sei professore, ho 27 mesi, arrivi a San Paganino, metti mano al sacco, cacci tre, quattro cento mila lire, e fai una bella busta, fai la figura tua perché sa da comprare, non sai campare, questa scusa è quasi poeta, ogni occasione è buona che non puoi cacciare mai una lire, e ti vuoi capire una poesia, e questa è la prima, eh. La seconda ed ultimissima cosa che io devo assolutamente dire su questa poesia di Giovanni Pasquoli, del Gessomino Notturno, perdonatemi, è ancora più pesante, è ancora più grave di quello che ho detto prima, ma te perdoni, non voglio fare peccato, ripeto, da standaschi dell'angeli, se tutti i cherubini, lungi da me l'idea, ma voi avete capito che questa poesia ha un argomento prettamente sessuale, e che argomento poi, niente meno che la notte di nozze, la prima notte di nozze, lui racconta proprio l'amblesso che questo suo amico Gabriele ha avuto con la sua novella sposa, non è come ti permette, ma io ho visto che è proprio una scusa a loro, ma che modo chiesto, ma come tu fai un matrimonio, scrivi una poesia, e metti in mezzo l'amblesso del tuo amico con la sua sposa, ma che mancano il rispetto a questo, e si vede poi, a te ve la leggere, si vede nella poesia, che il nostro amatissimo Giovanni si è a nascondere proprio la parete a coca franca, e si è mettete là a guardare, a fare il guardone, perché a un certo punto scrive, nel soggiorno si accende la luce, poi la luce si accende sulle scale, poi evidentemente scriviste, saranno arrivati dentro la camera da letto, e là la luce si è spinta, che ti importa a te, fatti tu, e se la sposa è scurnosa, e non si è fatta la ceretta, e se il suo marito è morto, è stata la luce che mi mette scurno, non mi voglio fare fare le cose, che non sono depilato, a te che ti importa, che modi sono questi, ma su cosa cosa fanno, tu scrivi la poesia sull'amblesso, ma versiamo la scena, apre e chiudo parentesi, per il discorso del poeta passaguare, pure là, in un discorso di amblesso sessual, che già non sta bene, mi sei morto pure là, perché a un certo punto scrive proprio, l'erba che nasce sulle fosse, là una cosa del genere, ma che c'è a secco l'erba delle fosse, io che tieni proprio, e tieni i cervelli i fantasmi, hai le turbe mentali, questa poesia, secondo me, si sta cancellata proprio da dentro la letteratura, io mi meraviglio che è arrivata ancora fino a qua, il giorno di notte, perché se stai via, il posto di Gabriele, io prendevo un po' i gravattini, io stavo direttamente in la piscina, facevo fare una lampa, disse, poesia, casta e franca, e tutto restato preso, all'animo rosso, su, 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 che non sei altro, ah! su, 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 so, su, 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 su... Grazie a tutti.